Prende corpo il progetto che dà un'immagine nuova e coordinata ai musei e spazi culturali di Pordenone voluto dall'assessore alla cultura Alberto Parigi. In questi giorni infatti sono stati applicati nuovi loghi e nuove vetrofanie sulle porte del museo d'arte, di storia naturale, della galleria Bertoia e della biblioteca civica. Si tratta di loghi che aiutano a identificare meglio gli spazi culturali conferendo a ciascuno di essi una caratteristica a seconda della sua peculiarità. Per questo nel logo del museo di storia naturale è raffigurata la sagoma di un mammut, in quello della biblioteca si riconosce un libro aperto, una trifora simboleggia il museo di Palazzo Ricchieri e la famosa sedia di Herribertoia indica la galleria omonima. Nasce la nuova immagine coordinata dei musei e degli spazi culturali pordenonesi. Abbiamo infatti piazzato sui vetri, sulle porte dei musei, questi nuovi loghi, segno di una nuova immagine, l'immagine della rete museale pordenonese, non più il singolo museo. Non è solo un'operazione di maquillage perché noi dobbiamo dare riconoscibilità e identità ai nostri spazi ed è anche il segno di un nuovo concetto, la rete museale pordenonese. Ecco da qui la sperimentazione del biglietto unico che ora stiamo lavorando per rendere strutturale, quindi con un unico biglietto si potrà entrare in tutti i musei della città e poi anche stiamo lavorando a un sito unico della rete museale pordenonese. Mi sembrano novità significative che insieme alle mostre che stiamo organizzando e alle altre iniziative puntano a rivitalizzare i musei e a renderli frequentati dai nostri cittadini. Nelle prossime settimane il lavoro sarà completato con l'applicazione di ulteriori vetrofanie e con l'installazione di nuove targhe all'esterno dei musei. Inoltre saranno posizionati dei totem all'ingresso della casa della musica e della biblioteca. Proprio qui sono già state sistemate alcune targhe che indicano il percorso da compiere per raggiungere la sala espositiva, un luogo che accoglie nel corso dell'anno numerose mostre temporanee per i visitatori di ogni età.